Ferragosto si prepara a spopolare il centro delle città marchigiane e a far vivere la costa. Il 15 agosto è alle porte. Penso che ci sia il tutto esaurito. Noi già siamo abbastanza pieni. Ferragosto sicuramente ci sarà il pienone. Di solito funziona sempre. Se non il giorno proprio di Ferragosto, diciamo, quelle due settimane lì è naturale, anche perché la gente è tutta in ferie. A confermare il full tra gli ombrelloni è il dato registrato da Asso Turismo Confesercenti, che vede le marche al più 90% di occupazione. Con l'abitudine tutta italiana di prendere le ferie vicino a Ferragosto, si chiude una stagione altalenante, che ha faticato a decollare. Tra meteo incerto, acquazzoni, grandine e il peso dei rincari, che ha influenzato decisamente la voglia di andare in vacanza, con la paura di lasciarci il portafoglio. Siamo partiti con un giugno meteorologicamente non buono, con un'affluenza purtroppo determinata dal tempo. Poi un luglio che si è ripreso e ha riguadagnato terreno. E adesso agosto uguale, stiamo andando benissimo. Analizzo nel quinquennio le stagioni. Questa è quella pessima. Ma non è colpa di nessuno, è colpa di elementi tipo il tempo, il momento socio-economico, che non è dei migliori, ma più che altro del tempo. La speranza è che agosto possa far chiudere la stagione in bellezza. Occhi puntati verso il futuro, però. La Bolche sta in resta in primo piano, in attesa della mappatura, per avere dati aggiornati sulla presenza di stabilimenti balneari, che hanno in affidamento le spiagge italiane. Ragiono con quelle che sono le leggi del passato, che ci hanno garantito il rinnovo automatico in cambio di investimenti. Lo diceva la legge 88 del 2001. Lavoriamo bene, cerchiamo di dare ai nostri clienti il meglio. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, poi dopo aspettiamo.